Medio Oriente, nuove trattative per una tregua, secondo fonti egiziani, i negoziati del Cairo sulla striscia di Gaza registrano grandi progressi, ma poco fa fonti israeliane hanno detto di non intravedere intesa il Cairo durante i colloqui che continueranno nelle prossime 48 ore. Vaticano si intitola Dignitas Infinita, Dignità Infinita, il nuovo documento sulla dignità umana redatto dal Dicastero per la dottrina della fede e 5 anni di lavoro per una sintesi del Magistero Papale sui temi che ogni giorno interpellano l'umanità. I fumetti come mezzo di comunicazione per sensibilizzare la pace contro ogni guerra, anche a Romics Multigraphic Novel trattano i temi dei conflitti bellici e delle sofferenze dell'umanità. Buongiorno dal TG2000, giornata di conferme smentite sulle trattative per una tregua, ma colleghiamoci subito con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, sono dorate tutta la notte queste trattative al Cairo tra il capo della CIA, quello del Mossad e i mediatori con Hamas di Egitto e Qatar. Tra ottimismi e frenate si parla di una possibile tregua in occasione della festa che conclude il Ramadan. Inizierà mercoledì e finirà venerdì sera. Fonti diplomatiche poco fa hanno detto che si saprà qualcosa domani sera. Intanto continua la fortissima pressione degli Stati Uniti su Egitto e Qatar per convincere Hamas ad un accordo, ma anche su Israele. Il premio Netanyahu però è sempre più stretto anche dal fronte interno, non solo dalle manifestazioni che hanno visto sia sabato sera che anche ieri sera qui a Gerusalemme. Migliaia di israeliani scendere in piazza con le famiglie degli ostaggi e chiede le dimissioni di Netanyahu proprio per la pessima gestione di questa guerra, ma minacciano anche di far cadere il governo i suoi alleati, i due estremisti, i due ministri più estremisti, Benvir e Smotri, che dicono che cadrà il governo se non ci sarà l'operazione di terra. Arafa e vogliono oggi una riunione d'emergenza del gabinetto di guerra israeliano. Intanto ieri a Washington si è visto l'idea dell'opposizione israeliana, la PID dopo le visite le scorse settimane di Benny Gantz alla Casa Bianca e anche del ministro della difesa Gallant, che di fatto è sempre più lontano dalle posizioni di Netanyahu, però Gallant ieri ha anche avvertito che potrebbe ampliarsi il fronte con il Nord, con il Libano e questa notte l'aviazione israeliana ha ucciso un altro comandante degli Hezbollah. La reazione del partito di Dio, ma anche quella dell'Iran, dipenderà in parte però anche da quello che succederà nei prossimi giorni sul fronte con Gaza. Da Gerusalemme la linea può tornare a Roma. Grazie ad Alessandra Buzzetti, intanto sul campo non si fermano le operazioni militari, mentre la popolazione continua a soffrire. Marco Burini. Sei mesi di inferno non bastano. L'esercito israeliano non si ritira da Gaza, si riposiziona, fa rifiatare un po' di uomini e sfiatare un po' di abitanti. Ce ne sono troppi a Rafa, nell'estremo sud della striscia, oltre un milione di sfollati e siccome Netanyahu dice di voler attaccare anche qui, nell'ultima città non occupata, Zaha lascia che un po' di gente torni a Canyunis. O quel che ne resta. Una distesa ininterrotta di macerie, tra le quali si aggirano desolati ma fieri i suoi abitanti. Mi mancava, la mia anima è qui, la mia anima è qui, non c'era il mio corpo ma la mia anima è qui, dice Salim. Sono anime in pena, sempre più smagrite. La fame non è l'ultima arma usata da Israele in questi mesi di devastazione. Gli aiuti sono ancora scarsi, anche se ieri sono stati fatti entrare 322 camion, mai così tanti dall'inizio della guerra, che è diventata una guerra contro l'umanità stessa, accusa lo chef José Andrés, fondatore di World Central Kitchen. L'uccisione dei sette operatori dell'ONG rimane una spina nel fianco per il governo di Tel Aviv, che adesso si dice disponibile a collaborare a un'indagine indipendente sulla strage. Le spiegazioni israeliane sono insoddisfacenti, dichiara il premier australiano, albanese. Netanyahu e i suoi hanno il fiato sul collo, ma non mollano. I soldati si sono ritirati da Canyunis, ma la brigata Nahal resta a presidiare il corridoio Nezarim, la strada che taglia in due la striscia. Il controllo lo vogliono mantenere loro. In Vaticano questa mattina Papa Francesco ha ricevuto i familiari di 5 staggi ancora nelle mani di Amasa, arrivati ieri a Roma con lo ministro degli esteri Israel Cazzi. Il ministro ha incontrato poi il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher. In Ucraina ora con il presidente Zelensky, che chiede ancora una volta i missili Patriot per difendersi a Zaporizia. Preoccupa la situazione attorno alla centrale nucleare. Federico Plotti. Gli attacchi sconsiderati da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizia, la più grande d'Europa, stanno alzando al massimo il livello di rischio per un possibile incidente dalle conseguenze catastrofiche. Parole del direttore della IEE all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Ieri l'impianto che sorge vicino all'estuario del grande fiume Dniepre è stato colpito per ben tre volte, danneggiata le principali strutture di contenimento dei reattori dell'immensa centrale. Tre le vittime accertate. Secondo l'agenzia di stampa russa Interfax, i droni che hanno attaccato gli impianti sarebbero ucraini. Immediata la sventita di Kiev che parla di un'azione spregiudicata di Mosca in violazione di tutte le norme che, anche in periodo di guerra, garantiscono la protezione dei siti nucleari. Intanto, mentre le linee di difesa ucraine vacillano, soprattutto a Chasivyar, dove si combatte ormai da giorni, casa per casa Zelensky lancia l'ennesimo appello all'Occidente. Per non perdere questa guerra, dice il presidente ucraino, ci servono missili di difesa aerea come i Patriot degli Stati Uniti e della Nato, capaci di intercettare anche gli ordigni personici e teleguidati russi al momento la vera spina nel fianco di Kiev. Occorre creare le opportunità di un negoziato, non dobbiamo arrenderci all'idea che l'unico modo per risolvere i problemi sia quello militare. L'ho detto oggi in un'intervista televisiva il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Ceglia, inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Sul Medio Oriente ha ribadito che per il rilascio degli ostaggi bisogna negoziare, negoziare è l'unica via. In Slovacchia, dove gli elettori hanno scelto come presidente il filo russo ed ex premier Peter Pellegrini, sostenuto dall'attuale capo del governo Robert Fico, Maurizio Dischino. Con oltre il 53% dei voti al ballottaggio di ieri, Peter Pellegrini ha vinto le elezioni del nuovo presidente della Slovacchia per i prossimi cinque anni. L'affluenza alle urne è stata quasi del 60%, un dato nettamente superiore al 52% registrato al primo turno del 23 marzo. Peter Pellegrini, capo del Parlamento uscente, 48 anni, un bisnonno italiano, Leopoldo Pellegrini, arrivato dalla Lombardia, è stato sostenuto dal governo filorussa e nazionalista guidato da Robert Fico. Entrerà in carica il 15 giugno dopo aver sconfitto il liberale europeista ed ex ministro degli esteri Ivan Korchok. La Slovacchia non deve essere solo un ricettore passivo di quello che le viene dettato a Washington e a Bruxelles, ha detto Pellegrini in un dibattito elettorale. Mentre ieri ha dichiarato, voglio che la Slovacchia sia dalla parte della pace e non della guerra. Le congratulazioni più vistose sono arrivate dal premier ungherese Viktor Orban e dal presidente serbo Aleksandar Vucic, che pendono per Mosca. Ma da sottolineare anche le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al nuovo presidente Pellegrini. Sono ansiosa di lavorare con te sulle importanti sfide che l'Unione europea e la Slovacchia affrontano insieme. Continuiamo a promuovere i nostri valori europei comuni. Il Vaticano perché oggi viene pubblicato un nuovo documento sulla dignità umana. Cristiana Caricato. Dignitas infinita. Cinque anni di lavoro per una sintesi del Magistero Papale sui temi che ogni giorno interpellano l'umanità ad ogni latitudine. Il nuovo documento del Dicastero della Dottrina della Fede, che fa memoria del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, parte dall'antropologia cristiana per riaffermare l'inviolabilità di un concetto che, seppure universalmente accettato, non sempre è rispettato. La centralità è la dignità dell'essere umano. Quattro capitoli, più introduzione e conclusione, in cui si offre un elenco aggiornato delle violazioni del valore della persona umana, di fatto tutto ciò che è contro la vita stessa. Si parla di guerra, povertà e tratta degli esseri umani, di omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, del travaglio dei migranti e del femminicidio, ma anche di tutto ciò che viola l'integrità della persona, come mutilazioni, torture, abusi sessuali, costrizioni psicologiche o condivisioni di vita subumana, dalle incarcerazioni arbitrarie alle deportazioni, dalla schiavitù alla prostituzione, alle condizioni ingiuste di lavoro. Un quadro ampio che include anche drammi che nascono dal considerare l'essere umano merce di scambio. Accanto alla condanna netta dell'aborto, ad esempio, arriva anche il no alla maternità surrogata, che rende oggetto non solo la madre, ma anche il bambino. Tra le gravi violazioni della dignità umana, anche lo scarto dei diversamente abili e la discriminazione, se non a volte la persecuzione, di persone omosessuali. Nel testo, però, anche la forte critica alla teoria del gender, nega la più grande tra le differenze esistenti tra gli esseri umani, quella sessuale. Giudizio negativo anche sul cambio di sesso, che rischia di minacciare la dignità unica che la persona ha ricevuto fin dal momento del concepimento. Infine, nell'elenco delle violazioni, anche la violenza digitale, quella che si diffonde attraverso i social. La dignità della persona, sempre al centro dell'impegno per il bene comune e di ogni ordinamento giuridico. La politica domani in Consiglio dei Ministri arriverà il DEF, mentre il cosiddetto campo largo continua a restringersi. Augusto Cantelmi. Ultimi ritocchi prima della presentazione del documento di economia e finanza del 2024 in Consiglio dei Ministri. La crescita prevista dal governo si aggira intorno all'1% e il debito sotto il 140%. Per conoscere i numeri esatti tuttavia bisognerà aspettare domani quando il DEF sarà esaminato dal CDM. Il Ministro dell'Economia, Giorgetti, in occasione dell'audizione sulla riforma della governanza europea, nelle commissioni bilancio congiunte ha annunciato che il documento sarà asciutto. Avrà una conformazione leggermente diversa rispetto al passato, più leggera, aggiunto il titolare del Dicastero, per il quale è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro paese. A causa dell'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno, 7,2% secondo le prime stime Istat. A pesare sui conti pubblici per il governo resta sempre il super bonus edilizio. Sul piano più strettamente politico restano accese le polemiche nel centro-sinistra, nel cosiddetto campo largo tra Sholaine e Conte dopo la questione giudiziaria. Bari, il pomeriggio unissiani, il commissario del PD per la campagna presenterà il codice di autorregolamentazione del partito per le candidature nelle elezioni. Al Brennero in corso la maxi manifestazione di col diretti a difesa del Made in Italy. In giornata sono attesi migliaia di partecipanti all'iniziativa per fermare l'invasione di cibro straniero spacciato per italiano, mentre l'Unione Europea mette a rischio l'etichetto obiettivo raccogliere un milione di firme per una proposta di legge europea d'iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola. Ancora aumenti nel prezzo della benzina, oggi un pieno costa oltre 7 euro rispetto all'inizio dell'anno, a calcolarlo il Codacons, secondo cui rispetto all'ultima settimana di dicembre oggi un litro di benzina in modalità self costa in media l'8,3% in più, mentre il gasolio è rincarato di circa il 5%. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa in 45, fra cui 5 dono minore sono stati soccorsi della Guardia Costiera, Beatrice Bossi. La segnalazione l'aveva lanciata Allarm Phone il 6 aprile scorso con un posto sul profilo social dell'organizzazione. Questa mattina la Guardia Costiera italiana ha raggiunto il barchino e salvato le 30 persone a bordo. Erano in zona maltese da due giorni, senza acqua né cibo, con il motore in avaria e in balia del mare. Migranti scappati dall'Africa e adesso al sicuro in Sicilia dove sono in corso le operazioni di identificazione. L'estate non fermerà le partenze, la rotta migratoria più letale del mondo è tornata ad affollarsi, il Mediterraneo è pieno di imbarcazioni e disperati che fuggono da guerra e fame. L'hot spot di Lampedusa in questi giorni ospita quasi mille persone ed è già in sovraffollamento. Nelle ultime ore poi sulle coste dell'isola sono arrivati altri 400 migranti, tutti a bordo di barche fatiscenti partite dalla Libia o dalla Tunisia pagando fino a 4.000 dollari per un viaggio che rischia sempre di sfiorare la morte. E oggi in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, una ricorrenza per promuovere l'integrazione e l'inclusione per combattere pregiudizi e discriminazioni. Antonella Mazzaterwe. Si prolunga una settimana in Italia quest'anno, dal 3 al 10 aprile, l'odierna giornata internazionale dei Rom e dei Sinti, celebrata da oltre mezzo secolo con il primo congresso delle popolazioni nomadi in passato, ora sempre più stanziali, ma la cui integrazione appare ancora lontana. L'incontro come con tutte le realtà, come con tutto il mondo dell'immigrazione, come con le tante realtà che viviamo ogni giorno, come con i vicini di casa. Conoscere, sostenere loro nel cammino di scolarizzazione dei bambini, nella formazione del lavoro. Ricchi di tradizione musicale, quest'anno i Rom porteranno mercoledì prossimo la loro arte alla scala con un concerto di ispirazione classica con composizioni originali. Un'iniziativa promossa anche dal Lunar, Presidenza del Consiglio dei Ministri, a suonare con i solisti delle orchestre dei teatri di Milano e di Pesaro, ci sarà anche un violinista Rom, noto a livello internazionale. La Romani Week prende un connotato molto molto importante, soprattutto in questo clima dove nel mondo si vede tanta disunione. Noi cerchiamo, con la cultura, di creare coesistenza. È risultata positiva all'alcol test e anche alla cocaina, la 31enne alla guida del SUV che nella notte di sabato è andata a scontrarsi contro l'auto dei carabinieri, sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, l'ha puntato scelto Francesco Ferraro di 27, entrambi morti nell'incidente. A quanto si apprende in ambienti investigativi, i funerali dei due militari dell'arma saranno celebrati domani nei rispettivi comuni d'origine in Puglia. Oltre 31 milioni di persone negli Stati Uniti assisteranno oggi a uno spettacolo, uno degli spettacoli astronomici più affascinanti, un eclissi totale di sole che sarà visibile solo dal centro del Nord America, dal Messico al Canada. Nulla per l'Italia, ma per chi vuole sarà possibile ammirare l'eclissi grazie a diverse dirette streaming come quella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che inizieranno a partire dalle 19 ore italiana. Quella di oggi sarà l'eclissi solare totale più lunga tra quelli visibili dagli Stati Uniti fin dal 1806 perché si trova nelle zone vicine, a confine con il Messico, potrà arrivare a ben 4 minuti e 26 secondi. Chiude ai battenti l'edizione 2024 di Romics, la fiera del fumetto della capitale, tanti temi trattati, molti dedicati alla pace e alla guerra. Luigi Ferraiolo. Romics a Roma ha appena chiuso i battenti ed è sempre più evidente che le fiere del fumetto preferiscono dirigersi ancora di più verso cosplay, film e videogames, riducendo lo spazio per i comics veri e propri. Ma proprio in questi tempi di conflitto i fumetti potrebbero essere un modo diverso e più incisivo per riflettere di guerra e di pace, come accade ad esempio in Saga, di nome e di fatto, pubblicata da Bao e presente nella mostra capitolina. In particolare una delle opere più interessanti degli ultimissimi anni è Saga, che in Italia è pubblicato da Bao Publishing in 10 volumi, che è ambientato in un universo a metà tra il fantasy e la fantascienza in cui un padre e una madre sono due soldati di eserciti contrapposti che cercano di sopravvivere e far sopravvivere la loro bambina e la loro famiglia e come sempre il fantasy e la fantascienza usano un genere per raccontare del mondo di oggi. Al di là della bellezza eccezionale di disegni, Saga ha un testo incredibile di Brian K. Wogan, che cerca di dimostrare come i conflitti bellici distruggano ogni speranza, che la convivenza tra le razze è possibile. Certe volte è più facile farsi la guerra che coltivare la pace, ma la pace ci guida verso una vita migliore. Spazio Orala Cultura con la nostra rubrica terza pagina, curata da Saverio Simonelli. Vi ricordo che questa edizione del telegiornale e il resto della nostra programmazione sono disponibili sulla nostra app Play 2000. Grazie per averci seguito e arrivederci. Cosa racconta Romana Petri in Tutto su di noi? Parlo del ritardo con il quale a volte ci accorgiamo dei danni subiti. Un ritardo che nasce, secondo me, da un profondo, quasi accecato amore verso i propri genitori. Un nome, quello della protagonista, che è un programma. Non è un caso che Marzia Marziali eccelle nella lotta greco-romana, quindi un'arte comunque di lotta, di... è una lottatrice, è una fighter, ecco. Lei si ribella da sempre, ma non lo sa, perché da bambina comincia a fare la lotta greco-romana da ragazzina. E quindi questo desiderio di contrapporre un corpo molto forte nei confronti di un padre vigliacco e di una madre morbida e tutta resa completamente a quest'uomo è già un inizio di difesa. Non se ne rende conto. Pensa semplicemente che le piace. I genitori della protagonista fanno parte di quella che possiamo chiamare una famiglia disfunzionale e lei in qualche modo lo sottolinea perché sono genitori che non hanno conosciuto l'inconscio. Lei scrive. I genitori che adesso hanno tra gli 85 e gli 95 anni, a meno che tu non li abbia fortemente messi in discussione quando eri giovane, a 50 anni gli dici, ma tu lo sai che quella volta mi ha fatto tanto soffrire. Ti guardano come se tu fossi pazzo. Magari piangono e ti dicono ma come? Io che sono stata la mamma migliore del mondo, il papà migliore del mondo. Sono totalmente accecati da un ego grandissimo, sono convinti di non aver mai sbagliato, mentre invece quelli della mia generazione e anche quelli più giovani di me, già nel momento in cui mettono al mondo un figlio, già si sentono un po' inadempienti, già hanno sbagliato qualcosa. Un'ancora di salvezza per questa ragazza diventa l'incontro con un cane. Ci sono due cani, uno sfortunato e uno sfortunato che poi diventa fortunato. Diciamo che questa è una cosa che mi appartiene proprio nel profondo. Ho sempre sentito che a donare completamente il nostro cuore a un essere così puro non c'è mai da perdere. Ho sempre avuto questa sensazione di guarigione dal dolore perché è ovvio che con una persona alla quale vuoi molto bene, hai un grande dolore, ti puoi sfogare, puoi parlare, questa persona ti dice la sua, qua, però ti sta dicendo la sua di qualcosa che sa, perché tu gliel'hai detta. Mentre invece in questo caso il cane riesce a consolarti di puro istinto di un dolore che però lui ignora. E quindi c'è questa cosa commovente dell'animale che sa che tu stai male o che sei felice ma non ne sa le ragioni e che partecipa così intensamente, quasi fosse una specie di guaritore.